Eccomi, volevo scusarmi per essere sparita e non aver risposto a certi messaggi in questi giorni, però c'è una cosa importante che devo comunicarvi relativa appunto a un pezzo della mia vita e volevo appunto dirvi che io e Fabio ci siamo lasciati, è stata una decisione che abbiamo preso insieme perché appunto era mancata quel pizzico di passione, di sentimento e vi dico anche che sicuramente non sarà facile perché non si può cancellare, non si possono cancellare questi quattro anni insieme dove ne abbiamo passate tante e sono sempre comunque quattro anni di relazione dove io ho imparato tantissimo e ho assorbito tanto e spero insomma di aver lasciato altrettanto. Sicuramente rimarrà il meglio in me di ciò che c'è stato e spero vivamente appunto che da parte vostra insomma non ci siano schieramenti perché proprio voi che ci avete supportato, aiutato in tantissimi momenti so che comunque alla fine capirete, sicuramente io ho voluto essere corretta con voi, anzi abbiamo voluto essere corretti con voi che siete stati i primi insomma a credere in questa storia e in questa relazione e così. Poi volevo comunque ringraziare voi per i messaggi che mi avete inviato in questi giorni che insomma vi siete resi conto un po' della situazione, vi siete stati vicino, mi avete dato conforto e spero di riuscire a continuare a crescere con voi e insieme a voi e sapete che comunque sono abbastanza serena e che ci ho provato a far andare bene e a provare veramente a far andare bene questa relazione però insomma è andata così e sicuramente troveremo insomma la nostra strada entrambi e troveremo la nostra felicità. Grazie